Ciao amici Youtubers Entriamo nel mese di luglio 2022 e questo è veramente un mese importante Abbiamo appena avuto la luna nuova nel segno del cancro, una luna molto sensibile Sebbene in questo periodo ci sentiamo un po' vicini alle cose più sentimentali Devo dire che questo sarà un momento molto importante Perché questo sarà il mese in cui inizieranno a cambiare un po' di aspetti dentro di noi E quella energia che abbiamo dentro inizierà a esplodere soprattutto tra il 4 e il 5 Quando il famoso portale di Sirio, che è un momento in cui il nostro spirito si ricarica Ci permetterà di trovare un senso di liberazione Ricordo che questo portale di energia sarà uno dei momenti salienti del mese di luglio E ci può aiutare a ricevere forse un po' quelli che sono i consigli del nostro cammino Intorno al giorno 13 avremo una super luna piena, ancora una volta una super luna che vedremo molto vicino alla Terra E le cose potrebbero iniziare a sembrare forse un po' pesante, addirittura forse bloccate Quindi se abbiamo sovraccaricato le nostre aspettative o se abbiamo accumulato magari delle questioni irrisolte Potremmo sentirne un po' tutto il peso Per fortuna questa luna piena ci aiuterà comunque a stabilire dei limiti E ad assumerci la responsabilità di come desideriamo trascorrere il nostro tempo Il giorno 22 luglio, con il passaggio del sole in leone, le cose si alleggeriscono Ci permetteremo un po' di abbandonarci con il lavoro e dedicarci molto di più allo svago Questa è la tipica tendenza di quella luna nuova che poi avremo il 28 luglio sempre nel segno del leone Un'energia dolce e molto leggera Altro aspetto molto importante che voglio dare un po' più di tempo è sicuramente Urano che si trova nel segno del toro si congiunge al nodo nord Ecco perché sarà una congiunzione che arriverà al culmine E questa combinazione di energia è una caratteristica fondamentale adesso Da questo momento fino a tutto il 2022 E sebbene si cerca, sembra un'energia un po' instabile Comunque è un'energia che ci avvicinarà molto di più al nostro cammino E soprattutto a ciò che noi viviamo L'incontro tra Urano e il nodo nord è un po' quei risvegli fatali del nostro destino Ricordiamo che i nodi sono fondamentali per l'astrologia Perché sono un po' quei nodi del cosiddetto karma Come viene detto sostanzialmente Il nodo nord e il nodo sud sono punti matematici nel cielo In cui l'orbita della luna si unisce sul piano dell'eclittica Quindi il percorso del sole e le 12 costellazioni cambia ogni 12 mesi In realtà ogni 18 mesi i nodi cambiano segno Perché c'è la fase retrograda Quindi sono sempre segni opposti E a gennaio di quest'anno i nodi si sono spostati in toro e l'opposto scorpione Mentre l'anno scorso si trovavano in gemelli in sagittario I nodi ci raccontano come la storia di dove siamo stati E di ciò che sappiamo abbiamo appreso Il nodo sud In qualche modo dove ci stiamo dirigendo Karmaticamente Per la nostra crescita personale Questo è il nodo nord Mentre si trovano quindi in toro e in scorpione Questo lo saranno fino a luglio del 2023 Tutti noi saremmo chiamati un po' a riflettere Su come vogliamo presentarci agli altri Promuovere quindi un po' più di autostima Essere molto più autosufficiente Questo è tipico del toro Ma allo stesso tempo Coltivare i legami più intimi E il nostro modo di essere dentro di noi stessi E questo è tipico delle competenze dello scorpione Proprio perché con questo transito quindi di urano Che si connega al nodo nord toro scorpione In questo caso ci spingerà proprio a fare chiarezza su noi stessi Ci sono dei punti molto importanti Innanzitutto avremo delle intuizioni e delle idee Che porteranno a una grande trasformazione della nostra vita Durante queste giornate Ricordo che questa congiunzione arriverà a fine mese Esattamente prima l'avremo verso la metà del mese Dopo in modo retrogrado l'avremo anche verso fine mese Questa sarà una congiunzione che ci darà un senso di libertà In qualche modo ci toglieremo un po' di ostacoli nella nostra vita E cerchiamo di vedere il nostro futuro in maniera diversa Ecco perché quella luna piena che avremo in Capricorno Nonostante sentiremo questo peso Arriva il momento forse di rilasciare qualcosa di noi Quindi è molto importante Durante queste ultime giornate del mese di luglio Inizierà a capire dove vogliamo andare Importanti sono anche le tecnologie Perché urano è il pianeta delle tecnologie Tutto quello che è il mondo tecnologico Inizierà un percorso diverso nella vostra vita personale E anche professionale Vi sentirete anche molto realizzati Avrete proprio la voglia di A livello anche professionale Di diventare più leader In questo preciso istante Ci sono però degli aspetti un po' particolari Attenzione al comportamento molto eccentrico Forse anche troppo ribelle in questo momento È un transito molto potente questo Perché urano simboleggia il futuro Le intuizioni, le rivoluzioni La ragione superiore Dunque questo transito Potrebbe scapire magari improvvise opportunità Davanti a voi E quindi dovete trovare in qualche modo la porta aperta Dovete essere predisposti A connettervi O a raggiungere magari delle opportunità nuove Attraverso il nodo nord Noi accumuliamo karma Nel presente e nel futuro E attraverso questo transito Noi possiamo in qualche modo delineare Delle prospettive di sviluppo molto migliori Perché urano è un pianeta che in qualche modo Ha un'intelligenza che ci permette di Andare fuori, no? Uscire fuori da alcune situazioni Questo sarà fondamentale durante questo periodo E devo dire la verità Sarà uno dei transiti che sicuramente sentiremo molto Allora ripetiamo Io in basso vi lascerò poi tutte le date 13 luglio la superluna piena del Capricorno In Capricorno Questa è la seconda superluna piena In una serie di tre superlune piene Quindi sono tutte lune piene Superlune Saranno molto vicine alla Terra Il che saranno molto potenziate Le lune piene attirano le cose fuori di noi Rendendole un momento molto potente Per disintossicarsi, liberarsi Illuminarci anche E questa lune piena ha un amore Forse un po' troppo severo Che ci chiede di assumerci delle responsabilità E delle azioni Potremmo sentirci chiamati In qualche modo a fare un passo in avanti Ad un approccio di ciò che vogliamo E abbiamo bisogno Se ci sentiamo bloccati O stagnanti Questa luna piena Può portare un cambiamento positivo Ma dovremmo comunque prendere Noll'iniziativa per muovere le cose Il giorno 19 Chirone inizia il suo moto Retrogrado Voi sapete che Chirone è un asteroide Molto importante Viene conosciuto come Il guaritore ferito Sta viaggiando in moto retrogado Nel seno dell'ariete Quindi ci offre il dono Della riflessione Quando si tratta di un nostro viaggio Di guarigione interna Quindi se da un lato Possiamo trovarci Nella necessità di affrontare O risolvere delle ferite passate Dall'altro possiamo usare Quest'energia anche per dire Che ce l'abbiamo fatta Quindi spesso non celebriamo mai Quando un duro lavoro Una ferita Riusciamo ad equilibrarla O a superarla Usiamo questa energia retrogrado Per ricordarci Di quanta strada abbiamo fatto In questo momento Il 22 luglio Inizia la stagione del leone Quindi il sole Entra nel segno del leone Questo è la fine Del segno Della stagione del cancro E si entra in un'infuocata Stagione Che ci dà molto spensieratezza Questo è vero La stagione del leone Significa Connettersi con il fuoco interiore Con le nostre passioni Con la nostra creatività Il leone è anche un'energia Che ama il divertimento E che può aiutarci A dare priorità Di felicità In questo momento Nel 2022 Quando il sole Si sposterà in leone E si allinerà anche con Cerere Che è una storia Molto importante Che è un'energia Molto nutritiva Quindi ci aiuterà A dare molta più cura Di noi stessi Il giorno 26 Avremo venere Che si congiunge Alla lilith La famosa luna nera Quindi puntiamo i riflessori Sulle nostre relazioni E dobbiamo risolvere cose Che non sono state risolte Se abbiamo qualcuno O magari qualche segreto Con qualcuno del passato Potrebbe proprio avvenire Durante questo periodo Le donne Mi raccomando Saranno molto forti Dovete essere molto combattive Soprattutto sulle disuguaglianze Di genere Il 28 Avremo una luna nuova In leone E può un'energia bellissima Secondo me Questa è una delle lune nuove Che ci incoraggerà Proprio a concentrarci Proprio su noi stessi Essere delle persone Equilibrate Piene di autostima Le relazioni In questo periodo Passeranno in primo piano Quindi sarà importante Parlare di amore Mi raccomando Il 28 Luglio Giove Inizia il suo moto Elettrogrado Nel segno dell'Ariete E torna poi lentamente Nel segno dei pesci Ma questo lo vedremo Più in là Questa sarà L'ultima volta Che Giove Entrerà poi nei pesci Per i prossimi 12 mesi Quindi Giove Vorrà assicurarsi Di consegnare Tutti i doni Prima di andarsene Quindi Sarà molto importante Sarà un'energia Molto bella E poi come vi ho già detto Il 31 luglio Urano Sarà congiunto Al nodo nord Vi ripeto Questa è un'energia Che sentiremo Tantissimo Questa congiunzione In realtà inizierà Il giorno 26 Quindi dal 26 in poi Urano Ricordatevi che È il pianeta del risveglio E il nodo nord Rappresenta il nostro destino Quindi questa energia Ci aiuterà un po' A risvegliare Il nostro destino Attenzione a quello Che potrebbe capirare Durante queste giornate Bene Adesso vedremo Segno per segno Come sarà Questo mese di luglio Seguendo Proprio i transiti planetari Per gli amici Della riete Devo dire Che questo sarà Un mese Molto Molto importante Riguarderà Tantissimo L'aspetto Della propria casa Il luogo dove Vive O come poter In qualche modo Ritrovare un po' Di equilibrio E di serenità All'interno Delle quattro mura Proprio il giorno 5 Mercurio entrerà In Capricorno E questo permetterà Tantissimo Agli amici Della riete A ritrovare Probabilmente Quella Spensieratezza Quella voglia In qualche modo Di parlare Comunicare Con persone Care Che forse Non sentiva Da molto tempo Lo stesso giorno Il reggente Il vostro reggente Marte Entrerà nel segno Del toro Questo Devo dire Che sarà un momento Particolare Perché evidentemente Ci sono Delle situazioni Anche forse Finanziarie Che devono essere Rivalutate Attentamente In realtà Questo Marte O Marte Che vi Permetterà Forse Di Entrare Più in Contatto Con quella Vostra Parte Che avevate Abbandonato Proprio Del vostro Corpo Forse Arrivato Il momento Di Iniziare Qualche Dieta Qualche Depurazione Del proprio Corpo Disintossicazione Del proprio Corpo Perché Durante Questo Transito Il toro Vi richiede Di guardare Attentamente Quella Che è La Vostra Vita Personale A livello Proprio Di Sentirvi A contatto Con la Terra O Con Quello Che Siete Realmente Questo Sarà Un Transito Che Vi Porterà Anche A Ristabilire O A Mettere Forse Dei Puntini Sulla I Ad Alcune Situazioni Del Passato Quindi La Riete Dovrà In Qualche Modo Cercare Proprio Dall'inizio Di Luglio Una Nuova Stabilità Mi Raccomando Se ci sono Questioni Riguardante La Vostra Casa La Vostra Famiglia È Arrivato Il Momento Di Sanare Queste Situazioni Di Trovare Un Compromesso Che Vi Porterà Comunque Ad Un Giusto Risultato La Luna Piena Nel Seno Del Capricorno Cadrà Nel Vostro Dodicimo Campo Devo Dire Che Questa Sarà Una Luna Abbastanza Particolare Anche Perché È Una Luna Che Parla Di La Necessità Di Rivedere Attentamente Questioni Lavorative Forse Qualche Situazione Lavorativa Si Chiuderà Probabilmente Ci Saranno Delle Nuove Opportunità Che Arriveranno Sicuro Ci Saranno Delle Nuove Opportunità Che Arriveranno Anche Perché Avete Capito Che Forse Ci Sono Le Le realtà Che Vi Stanno Facendo Perdere Tempo O Che Non Vi Sentite Apprezzate Convinto Però Che Questa Luna Vi Metterà Un Po In Gioco Vi Permetterà Di Capire Dove Andare Come Potere In Qualche Modo Risolvere Alcune Situazioni Dentro Di Voi Stessi E Cercare Quindi Di Guardare Avanti Guardare Avanti Proprio Nella Vostra Posizione Sociale Ecco Forse Importante Quello Qualcuno Di Voi Forse Sta Facendo Un Lavoro Che Non Gli Intorno Al 13 Voi Sentirete Proprio La Necessità Di Liberarvi Di Questo Passato Il Giorno 18 Venere Entra In Cancro Allora Viva Gli Incontri In Questo Periodo Intorno Al 18 Devo Dire Che La Riete Incontrerà Qualcuno Di Molto Familiare Una Persona Che In Qualche Modo Rappresenta Il Vostro Vero Io Nel Senso Difficile Per Una Riete Perché Molto Puntiglioso Sull'amore Ecco Questa Venere Farà Un Transito Molto Bello Per Voi Perché Vi Regalerà L'opportunità Di Rincontrare Forse Una Persona Del Passato O Addirittura Una Persona Nuova Ma Che Finalmente Vi Può Regalare Delle Grandi Opportunità Delle Opportunità Per Stabilire Una Relazione Più Seria Molto Sentimentale Molto Romantica Mi raccomando Guardate Intorno Alla Vostra Famiglia Degli Amici Dei Vostri Cugini O Delle Persone Che In Qualche Modo Sono Intorno Al Vostro Nucleo Familiare Sarà Un Transito Importante Anche Perché Si Congiungerà Mercurio E Questo Sarà Veramente Molto Bello Anche Se Mercurio Il Giorno Dopo Entrerà Nel Segno Del Leone Eviterà Una Grande Grinta Una Grande Vitalità Amici Dell'Ariete Perché Lì Riuscirete In Qualche Modo Ad Uscire Fuori Dal Vostro Confine In Iniziare Seriamente A Dire Chi Siete Nella Vita E Quello Che Valete Realmente Il Giorno 22 Il Sole Entra Nel Leone Quindi Illuminando La Vostra Quinta Casa E Anche Qui Devo Dire Che Sarà Veramente Un Bellissimo Momento Perché Da Questo Momento In Poi Moltissime Vita Urano Farà Congiunzione Come Vi Ho Già Detto Con Il Nodo Nord Nel Vostro Secondo Campo Questo È Un Campo Importantissimo Perché Vi Permetterà Finalmente Di Guarire Da Alcune Ferite Del Vostro Passato A Livello Anche Economico Quindi Siete Molto Vincenti Durante Queste Giornate È Una Congiunzione Importantissima Da Un Lato Vedo Una Riete Che Si Sposta Di Lavoro Che In Qualche Modo Inizia A Trovare Delle Nuove Fonti Di Guadagno Da Un Lato Potrebbe Essere Anche Qualche Soldo Che Stavate Aspettando Da Molto Tempo E Che Finalmente Arriverà Nella Vostra Vita Se Avete Seminato Bene In Passato Ultimo Aspetto Importante È La Bellissima Luna Nuova Nel Segno Del Cancro Ancora Qui E Scusatemi Del Leone Ancora Qui Ricordo Le Grandi Conoscenze Che Potrebbero Nascere Proprio Verso Fine Mese Cari amici Del Toro Per voi Questo Mese Di Luglio 2022 Parte Con Un Mercurio Nel Segno Del Cancro Nel Vostro Terzo Campo Devo Dire La Sinceravità Questo Sarà Un Momento Molto Interessante Soprattutto Per Quanto Riguarda Le Comunicazioni E Tutto Ciò Che Intorno Ha Delle Idee Nuove O Delle Idee Vincenti Il Toro Durante Queste Prime Giornate Del Mese Vivrà Delle Grandi Opportunità Innanzitutto Ci Saranno Delle Magari Delle Situazioni A livello Anche Lavorativo Che Inizieranno A Sbloccarsi Lo Dico Perché Poi Il Giorno 13 Avremo Una Luna Nuova Piena Nel Segno Del Cancro E Il Giorno 5 Torno Un Attimo Indietro Marte Entrerà Nel Segno Del Toro Nel Vostro Primo Campo Quindi Avete Proprio Un' Energia Che In Qualche Modo Vi Sta Invitando Ad Allontanarmi Un po' Anche Da Schemi Del Passato A Situazioni Che Non Vi Appartengono Più Le Persone Che Vogliono Iniziare Dei Percorsi Di Studio Le Persone Che Vogliono Iniziare A Vivere Una Vita Fatta Di Novità In Qualche Modo Il Toro Ha Bisogno In Questo Periodo Di Uscire Fuori Seriamente Per Quello Che È Di Grandissime Opportunità Che Credo Vi Permetteranno In Qualche Modo Di Arrivare Verso Una Buona Meta Soprattutto Per L'aspetto Lavorativo Ma Anche Gli Studi L'idee Dei Progetti Nuovi Che In Qualche Modo Devano Sbloccarsi Per L'amore Bisogna Aspettare Intorno Al 18 Quando Avremo Una Venere Che Farà Un Transito Nel Seno Del Cancro Quindi Conoscenze Molto Importanti O Addirittura Potrebbero Esserci Anche Delle Comunicazioni In Qualche Modo Molto Più Serie Con Le Persone Che Amate Seriamente Le Persone Che In Qualche Modo Fanno Parte Del Vostro Cuore Se C'è Qualcuno Del Vostro Passato Che Non Ricordate O Magari Qualcuno Del Vostro Passato Che Minimamente Pensavate Che Poteva Ritornare Magari Proprio Durante Il 18 O Il 19 Quando Mercurio Entrerà Nel Seno Del Cancro E Quindi Illuminando Nuovamente Scusatemi De Leone Illuminando La Vostra Quarta Casa Devo Dire Che Qualcuno Avrà Delle Notizie Particolari Forse Un Amore Del Passato Qualcuno Che Avete Completamente Dimenticato Si Potrebbe Far Risentire Una Persona Che Insomma In Qualche Modo Non Pensavate Minimamente Che Poteva Riaffiorire Nella Vostra Vita Questo Mercurio In Leone Farà Un Transito Particolare Mi Raccomando Tutte Le Questioni Che Dovete Gestire A Livello Di Casa Quindi Di Quattro Mura È Si Vorrà Anche Parlare In Maniera Molto Più Seria Magari Di Amore O Di Situazioni Che Devono Essere Sbloccate A Livello Proprio Relazionale Mi Raccomando I Genitori Durante Queste Giornate Perché Potranno Darvi Dei Consigli Non Sotto Valutateli Il Giorno 26 Sarà Un Giorno Molto Particolare Per Voi Dal 26 A Fine Mese Devo Dire Che Sarà Molto Particolare Perché Avremo Una Congiunzione Importante Urano Entrerà In Congiunzione Con Il Nodo Norte Che Si Trova Proprio In Toro Quindi Entrambi I Segni Si Trovano In Toro E Urano Che Un Pianeta Il Nodo Norde Che Insomma Vi Ho Già Spiegato Nell' Introduzione Entreranno In Congiunzione Nel Vostro Primo Campo E Qui C'è Una Rivoluzione In Corso Allora Questa Rivoluzione Potrebbe Iniziare Innanzitutto Con La Vostra Personalità Con Quello Che È Il Vostro Mondo Personale La Vostra Vita Interna Quindi Magari Un Cambio Anche Forse Di Look Una Persona Che Vuole In Avevate Ragione Su Tante Cose La Luna Nuova Nel Segno Del Leone Entrerà Nuovamente A Toccare Temi Particolari Riguardante La Vostra Famiglia Amici Dei Gemelli Questo Mese Inizierà Con Questioni Economiche Molto Importanti Devo Dire Che Dal Giorno Cinque Quando Marte Entrerà Nel Vostro Dodicesimo Campo E Mercurio Entrerà Nel Vostro Secondo Campo Ci Saranno Comunque Delle Discussioni Molto Importanti Riguardante La Vostra Economia Ci Sono Delle Realtà O Ci Saranno Comunque Delle Realtà Molto Importanti Che Vi Porteranno Avanti Finalmente Per Risolvere Qualche Piccolo Debito Qualche Situazione Del Vostro Economica Del Vostro Passato Che Era Rimasta Bloccata Indubbiamente Per Colpa Forse Magari Di Qualche Cattiva Scelta Che Avete Avuto Proprio Durante Questi Periodi Sono Convinto Però Che Queste Saranno Giornate Molto Importanti Anche Per La Stabilità Forse È Piena Nel Segno Del Capricorno Che Sarà Il Giorno 13 Molto Trasformativa Per Voi Da Un Lato Ci Saranno Riscossioni Di Debiti Ma Anche Forse Magari Qualche Soldo Che Dovete Prestare A Qualche Familiare O Qualcuno Intorno A Voi Dall'altro Questa Luna Piena Evidentemente Vi Spingerà A Chiudere Un Rapporto Ad Una Relazione Abbastanza Tossica Se Volete Rinascere In Questo Periodo Credo Che Questa Luna Piena Nel Segno Del Capricorno Vi Porterà Comunque A Fare Una Scelta Una Scelta Molto Importante Che Riguarda La Vostra Spontaneità La Vostra Serenità Non Spontaneità La Vostra Serenità Soprattutto Cadrà Nel Vostro Campo Otto Quindi È Indubbio Che Questa Luna Dirà Basta Ad Una Relazione Che Non Funziona Più Ad Un'amicizia Che Non È Più La Stessa Ed È Probabile Che Magari Questo Sarà Il Momento Dove Direte Bisogna Guardare Avanti Inoltre Il Giorno 18 Venere Entrerà Nel Segno Del Cancro Questa È Siamo Siamo Amanti Siamo Fidanzati Vogliamo Creare Qualcosa Di Importante Voi Lo Potete Chiedere A Qualcuno Qualcuno Ve lo Chiederà A Voi Quindi State Pronti Durante Questo Periodo A Trovare La Giusta Risposta Che Non Tarderà Perché Il Giorno Dopo Mercurio Entrerà Nel Segno Del Leone Siete Espansivi Siete In Grado Di Dire Realmente Quello Che Volete Anche Il Sole Poi Il Giorno 22 Entrerà Nel Segno Del Leone E Questo È Un Transito Importante Per Voi Perché L'estate Per Voi È Qualcosa Di Meraviglioso Insomma Vi Regala Sempre Delle Grandi Opportunità Per Essere Voi Stessi Per Poter Finalmente Primeriggiare Nella Vostra Vita Per Essere Qualcuno Che Per Dire Anche Quello Che Realmente Pensate Tra Una Lettera Magari Sanno Riuscite Ad Esprimere Voi Stessi Anche Se Non Credo Perché Sarete Molto In Grado Di Dire Realmente Quello Che Pensate Ma Cercate Di Essere Delle Persone Che In Qualche Modo Vi Possono Regalare Veramente Delle Grandi Opportunità Il Giorno 26 Scusate Questo Momento Molto Importante Perché Il Vostro Campo Numero 12 Verrà Toccato Da Una Congiunzione Importante Tra Urano E Il Nodo Nord Qui Dovete Superare Un Karma Dovete Liberarvi Di Qualcosa Di Molto Importante Devo Dire Che Anche Dovete Fare Molta Attenzione Alle Scelte Che Avete Fatto Durante Queste Prime Giornate Del Mese Perché Proprio Verso Fine Mese Potrebbe Ricadervi Addosso Una Responsabilità Che Voi Avevate In Qualche Modo Cancellato O Potete In Qualche Modo Sentire Il Peso Di Qualcosa Che Non Avete Preso In Considerazione Ecco Perché Durante Queste Giornate Dal 26 Al 31 Sarà Importante Essere Un Poi Cauti Allora Vi Rendrete Conto Di Qualcosa Durante Queste Giornate Però Non Tornate Indietro E Soprattutto Non Sentite Il Rimorso Il Giorno Invece Della Luna Nuova Nel Signo Del Leone Il Giorno 28 Sarà Veramente Una Giornata Importante Per Stringere Delle Nuove Amicizie Addirittura Delle Nuove Conoscenze Cari Amici Del Cancro Bentornati Anche Per Questo Appuntamento Innanzitutto Voglio fare Gli Aguri A Tutte Le Persone Che Faranno Il Compleanno Proprio Durante Le Prime Giornate Del Mese Devo Direi Che Questo Sarà Un Mese Veramente Bello Un Mese Dove Anche Mercurio Il Giorno 5 Entrerà Nel Vostro Segno Avremo Venere Il Giorno 18 Che Entrerà Nel Vostro Segno E Devo Dire Che Questo Vi Permetterà Comunque Di Vivere Un Mese Di Luglio Molto Particolare Sono Convinto Che Durante Questo Mese Ci Saranno Delle Grandi Opportunità Io Adesso Mi Soffermo Un Una Piena Il Giorno 13 Proprio Nel Segno Del Capricorno E Avremo Anche Un Marte Intoro Nell'undicesimo Campo Quasi Tutto Il Mese Tutto Il Mese E Quindi Insomma Vedendo Questi Transiti Mi Rendo Conto Che Per Voi Sarà Una Grande Opportunità Uno Di Stabilire Nuovamente Delle Relazioni Con Il Vostro Passato Con Persone Che Avete In Mente In Questo Momento Due Sono Convinto Che Questo Sarà Un Mese Dove Finalmente Inizieranno Delle Opportunità Nuove A livello Relazionale Soprattutto Per Quelle Persone Che Sono Rimaste Per Troppo Tempo Per Molto Tempo Soli Tre Mi Raccomando Apritevi Perché Questo Transito Di Marte In Toro Vi Permetterà Innanzitutto Di Iniziare A Frequentare Persone Nuove Nella Vostra Vite Tutto Ciò Vi Permetterà Comunque Di Vivere Delle Opportunità Che Poi A Lungo Andare Che Poi Nel Tempo Potranno Diventare Qualcosa Di Molto Importante Anche Molto Serio Devo Dire La Sincera Verità Questa Luna Piene Capricorno Nella Vostra Settima Casa Innanzitutto Rappresenta Il Giorno 13 Intorno Al Giorno 13 Innanzitutto Rappresenta La Voglia La Necessità Di Chiudere Con Un Passato E Finché Non Avete Chiuso Definitivamente Con Questo Passato Purtroppo Voi Cancro Non Riuscite A Gettare Un Seme A Gettare Una Nuova A Prendere Una Nuova Strada Ecco Perché Sono Convinto Che Durante Queste Giornate Nascerà Qualcosa Di Nuovo E Sentite Comunque La Necessità Di Liberarvi Verso Qualcosa Di Nuovo E Sono Convinto Che Questo Potrà In Qualche Modo Portarvi Verso Una Realtà La Luna Nuova In Capricorno Aprirà Comunque Anche La Strada Verso Delle Opportunità Molto Importanti Anche Perché Tra Il 18 Venere Inizierà Il Suo Transito Nel Cancro Noi Sappiamo Che Venere In Cancro E Una Venere Molto Romantica E Una Venere Che Parla Di Spensieratezza E Una Maternità Anche Se Vogliamo Dirlo Quindi Molti Cancro Chi Ha Magari Una Coppia Fissa Chi Vuole Comunque Avere Dei Figli Questo Devo Dire Che Sarà Una Giornata Molto Interessante Una Giornata Che Vi Permetterà Un Transito Molto Interessante Saranno Giornate Che Vi Permetteranno A Guardare Se Siete Uomini Alla Famiglia In Generale Mercurio In Leone Il Giorno 19 Farà Un Transito Bello Perché Vi Permetterà Anche Qui Insomma Apriamo Una Parentesi Sulle Questioni Economiche Il Sole Entrerà Proprio Nel Signore Leone Verso La Seconda Casa Quindi Anche In Questa Si Apre Una Stagione Dove Anche I Risultati Economici O Delle Situazioni Vostre Personale A Livello Economico Finalmente Potranno Essere Risol Risol Ecco Urano Farà Congiunzione Con Nodo Nord Nel Vosso Undicesimo Campo Dal 26 Al 31 Di Luglio Allora Io Qui Sono Convinto Che Molti Cancro Conosceranno Un'anima Gemella Proprio Tra Gli Amici Tra Il Gruppo Di Lavoro Tra Le Persone Che Solitamente Frequentate Scoccherà Qualcosa Di Molto Particolare E Questo È Veramente Un Momento Importante Credo Più Sulle Queste Lavorative O Magari Con Qualcosa Riguardante La Vostra Economia O La Finanza Devo Dire Che Questo È Un Momento In Cui Si Scioglieranno Anche Tantissimi Nodi Del Cuore Quindi È Molto Importante Durante Questo Periodo Liberarsi Del Vostro Passato E Lasciare La Vecchia Strada Per Una Strada Nuova E Sono Convinto Che Cancro Hanno Proprio Bisogno Di Vivere Questo Momento L'Ultimo Transito Importante Sarà La Luna Nuova Nel Segno Del Leone Ottime Le Occasioni Lavorative Se Volete Iniziare Qualche Nuovo Tipo Di Progetto Sono Convinto Che Sarà Molto Importante Per Voi Cari Amici De Leone Innanzitutto Tantissimi Aguri Per Tutti Coloro Che Faranno Il Compleanno Dalle 22 In Poi Quando Il Sole Entrerà Proprio Nel Vostro Segno Questo Momento Importante Da Festeggiare Ma Partiamo Con Le Prime Giornate Innanzitutto Il Giorno Cinque Avremo Marte Che Entrerà Nel Segno Del Toro Questa Sarà Una Quadratura Importante Nel Vostro Segno Perché Marte È Un Pianeta Amico Per Amici De Leone E Vi Spinge Comunque A Fare Delle Scelte Molto Importante Forse Finalmente Fare Una Scelta Lavorativa Che Vi Dia Stabilità Mi Raccomando Le Persone Che Sono In Questo Momento Un Po Così Incerte Indecise Su Alcune Questioni Lavorative È Arrivato Il Momento Magari Di Prendersi Una Piccola Pausa E Riflettere Attentamente Su Quale Scelta Fare Su Quale Strada Prendere In Questo Preciso Momento Sono Convinto Che Durante Queste Prime Giornate Del Mese Anche Con Mercurio In Cancro Nel Vosso 12 Campo Potete Ricevere Magari Una Proposta Di Lavoro Dal Passato O Qualche Azienda Che Avete Già Lavorato Io Se Fosse In Voi Penserei Moltissimo Alla Posizione E Alla Questione Economica Quindi Mi Raccomando Perché È Molto Probabile Che Voi State Sviluppando Nella Vostra Vita Una Grande Opportunità Quella Di Ritrovare Anche Un Po Quella Serenità Quella Spensionatezza A livello Economico Ma Anche Di Posizioni Sociali Di Cui Avevate Tanto Bisogno La Giornata Del 13 Saranno Caratterizzate Da Una Luna Piena Nel Sino Del Capricorno Questa Una Super Luna Nel Sesto Campo Io Vi Invito Amici De Leone In Questo Momento A Prendervi Tanta Cura Di Voi Stessi Soprattutto A livello Estetico E Quindi Fare Tanto Sport Mangiare Bene Fare Una Dieta Perché Queste Saranno Giornate In cui Direte Basta Ad Una Vita Forse Monotona Piena Di Incertezze E Quindi Di Conseguenza Non Sentirvi Al 100% Sani In Questo Momento Le Giornate Del 18 E 19 Saranno Caratterizzate Anche Qui Da Una Grande Opportunità Per Risolvere Anche A livello Di Comunicazione O De Piccoli Disguidi Che Erano Nati Proprio Nel Vostro Passato Perché Ve Lo Dico Venere Entra In Cancro E Quando Venere Entra In Cancro Per Voi Rappresenta Amori Del Passate O Magari Sensazioni O Situazioni Vostre Personale Che Non Sono Riuscite Al 100% Quell'uomo Quella Donna Che In Qualche Modo Vi Il Giorno Dopo Quindi Se Magari Avete Voglia Di Scrivere Un Messaggio Ad Una Persona Che Non So Vi Rimasto In Gola Perché Non Siete Riusciti A Risolvere Un Problema O Una Discussione Fatelo Queste Sono Giornate Importanti Anche Perché Poi Il Che Questo Sarà Veramente Un Bellissimo Momento Per Togliere Via Un Po Tutti I Dubbi Anche A Livello Vostro Personale Magari Parlare Con Una Persona A Livello Sentimentale Capire Quali Sono I Propri Sentimenti Di Questa Persona O Magari Lanciarsi Con Una Persona Che Vi Sta A Cuore E Che In Qualche Modo Dovete Scoprire Dovete Capire Che Cosa Prova O Chi Realmente È Questa Persona Qui Il Giorno 26 Avremo Un Evento Astrologico Molto Importante Urano Che Farà Una Congiunzione Nel Segno Del Toro Nel Nodo Nord Ecco Perché Parlavo Di Lavori Del Passato O Situazioni Magari Che Devono Essere Sbloccati Sembra Quasi Che Vi Arriverà Una Proposta Lavorativa Molto Importante Verso Fine Mese Che In Qualche Modo Non Dovete Assolutamente Dire Di No Un Po Per La Questione Proprio Economica E Un Po Anche Soprattutto Per La Vostra Stabilità Il Mese Si Chiude Con Una Nuova Nel Segno Del Leone E Questo È Veramente Un Bellissimo Mese Per Voi Per Festeggiare Anche Perché Poi Apre Il Mese Di Agosto Che Sarà Veramente Un Mese Molto Importante Per Voi Questa Luna Nuova Nel Vostro Primo Campo Parla Di Novità Vostre Personal Quindi Mi Raccomando Dateci Su Cambiate Un Po La Vostra Estetica Cercate Di Dare Un Po Un Nuovo Look Alla Vostra Vita Ma Parla Sicuramente Di Nuovi Incontri E Di Nuovi Amori Amici Della Vergine Iniziamo Il Mese Di Luglio Con Dei Transiti Molto Importanti Per Voi Soprattutto Per Quanto Riguarda La Scoperta E La Ricerca Di Situazioni Nuove Nella Vostra Vita Questo Potrà Avvenire Soprattutto Grazie A Delle Nuove Conoscenze Devo Dire Che Il Mese Parte Con Un Mercurio Nel Segno Del Cancro E Un Toro E Scusatemi Un Marte Che Entra Nel Segno Del Toro Che Saranno Un Po Le Guide Proprio Per Iniziare Il Mese In Maniera Diversa Dal Solito Ve lo Dico Perché Secondo Me I Amici Della Vergine Durante Queste Prime Giornate Avranno Voglia Di Scoprire Anche Nuove Realtà Nel Senso Uscire Dal Proprio Confine Viaggiare Iniziare Magari A Frequentare Dei Luoghi Nuovi O Delle Persone Nuove Nella Vostra Vita Avete Bisogno Di Novità E Lo Sentirete Tantissimo Vi Devo Dire Mercurio Proprio Nel Vostro Undicesimo Campo Vi Permetterà Proprio Di Conoscere Frequentare Anche Delle Persone Nuove Ecco Perché Dovete Darci Dovete Fare Il Molto Particolare Ve Lo Dico Soprattutto Perché Il Giorno 13 Ci Sarà Una Super Luna Piena Nel Segno Del Capricorno Un Segno Amico Per Voi Il Vostro Campo Numero Cinque Sarà Illuminato Dalla Voglia Forse Di Conoscere O Di Frequentare Delle Persone Nuove In Particolare Di Divertirsi Allora Occhio Le Persone Che Conoscete Durante Questo Periodo Perché Magari Queste Sono Persone Che Vogliono Da Voi Soltanto Una Notte Ma Devo Dire Che Forse Anche Voi In Questo Momento Volete Semplicemente Divertirvi E Lasciarvi Andare Vivere In Maniera Molto Più Spensierata Questo Momento Il Giorno 18 Ecco Ancora Vedi Una Volta Anche Mercurio Può Entra In Leone E Il Sole Il Giorno 22 Entra Leone Quindi Avremo Tutto Un ciclo Nella Vostra 12 Casa Quindi Prima Che Il Sole Prima Del 22 Mi Raccomando Fate Conoscenze Apritevi Frequentate Qualcuno Tra L'altro Venere Il 18 Entrerà Proprio Nel Vosso Undicesimo Campo C'è Proprio La Necessità Nel Segno Della Vergine Di Frequentare Nuove Persone Addirittura Possono Nascere Anche Dei Nuovi Rapporti Economici O Delle Nuove Collaborazioni In Questo Momento Molto Importante Vi Dico Prima Del 22 Perché Poi Tutto Il Cielo Si Sposta Un Po Verso Il Vosso Dovicesimo Campo Che è Un Campo Non Pesante Però Devo Dire Che Prima Che Il Sole Entra Nel Vostro Segno Dovete Risolvere Qualcosa Come Ogni Anno Questo È Un Periodo In C'è Bisogno Di Rivedere Il Proprio Passato E Di Carmici Che Avverranno Proprio Durante Questa Giornata Attenzione Alle Questioni Di Fisica Magari La Pressione O Magari L'alimentazione Che State Facendo Perché Questo È Un Momento In Cui Dovete Guardarvi Dentro E Capire Voi Il Vostro Corpo E Le Scelte Forse Anche Un Po Sbagliate Che Avete Preso Nel Vostro Passato Il Giorno Però 26 Ricordatevi Questa Giornata Fino Al 31 Saranno Giornate Importantissime Perché Quello Che Vi Dicevo Prima All'inizio Il Toro Ha Bisogno Di Uscir Fuori Da Una Realtà E Questo Sarà Un Momento Importantissimo Allora Uno Se Volete Studiare Se Volete Frequentare Qualcosa Se Volete Festeggiare Celebrare Qualcosa Importante Sarà Un Uscire Fuori Da Una Realtà E Iniziare Forse Magari A Frequentare Un Mondo Completamente Diverso Da Quello Che Voi Siete Realmente Allora Siete Pronti Magari A Prendere Delle Scelte Importanti Io Ve Lo Aguro Perché Questo Sarà Un Mese Molto Importante Per Voi Amici Della Bilancia Per Voi Questo Mese Di Luglio Parlerà Tanto Di Responsabilità Devo Usate Per Voi Soprattutto Nella Prima Parte Di Una Grande Necessità Di Trovare Questo Vostro Nuovo Mondo Fatto Di Lavoro Casa O Studi Quindi Sarà Importante Da Luglio Iniziare Una Nuova Routine Di Vita Pensando Entrando E Integrando Nella Vostra Vita Una Posizione Sociale Nuova Un Lavoro Nuovo Magari Anche Cercando Di Trovare Un Accordo Con La Propria Famiglia Srete Molto Impegnati Durante Queste Giornate Devo Dire Che Il Lavoro Non Vi Mancherà Durante Queste Prime Di Questi Primi Giorni Di Luglio Ma Sono Contento Soprattutto Perché Qualcuno Si Sentirà Finalmente Soddisfatto Nella Vita Si Sentirà Pieno Di Iniziativa Si Sentirà Nuovo In Qualche Modo Se Stavate Aspettando Delle Novità A Livello Lavorativo Se Stavate Aspettando Delle Occasioni Nuove Credo Che Queste Saranno Giornate Dove Finalmente Si Sbloccheranno Contratti Vecchi Situazioni Riguardante Anche La Vostra Casa Situazioni Ereditarie Insomma Si Aprirà Veramente Un Mondo Nuovo Un Mondo Che Vi Permetterà Di Essere Una Persona Molto Più Soddisfatta E Soprattutto Una Persona Nuova In Qualche Modo Perché Fino A Questo Momento Sembrava Che Tutte Le Cose Stavano Andando Per Il Verso Storto Non Era Non Era Ancora Integrati Magari All'interno Di Una Società O All'interno Di Un Grupo E Questo Sarà Momento Invece Dove Sentite La Grande Spinta La Grande Volontà Per Quanto Riguardo I Gruppi Nuovi Le Amicizie Nuove Del Mese Sarà Creatizzata Da Transiti Planetari Proprio Nel Vostro Undicesimo Campo Nuove Conoscenze Tra Questi Collaboratori Può Nascere Qualcosa Di Molto Importante Allora Il Giorno Cinque Mercurio Entrerà Nel Signore Del Cancro Questo Sarà Un Momento In cui Si Sbloccheranno Rapporti Economici Contratti Dove Parlerete Con Molta Più Responsabilità Di Alcune Situazioni Vostre Importanti E Lo Stesso Giorno Marte Entrerà Nel Signore Del Toro Che Vi Aiuterà Finalmente A Liberarvi Di Qualcosa Del Passato Forse Di Un Momento Un Po Stagnante E Di Riuscire Finalmente A Liberarvi Di Qualcosa Di Essere Un Po Più Sicuri Di Quello Che Avete Nelle Vostre Mani E Quindi Essere Anche Grati Per Questo Il Giorno 13 Avremo La Luna Piena Nel Signore Del Capricorno Nel Vostro Campo Numero 4 Questa Luna Piena Che In Qualche Modo Vi Permetterà Di Uscire Da Una Situazione Familiare Abbastanza Complessa E Difficile Iniziare Magari A Trovare Una Nuova Armonia All'interno Delle Vostre Quattro Mura Addirittura Finalmente Possono Potete Prendere La Proprio A Quello Di Vivere Da Solo Spostarsi Mi Raccomando I Genitori Questo Sarà Molto Importante Durante Queste Giornate Venere Entra In Cantucro Nel Vostro Decimo Campo Quello Che Vi Dicevo Forse Qualcuno Troverà L'amore All'interno Del Lavoro Qualcuno Inizierà Una Frequentazione All'interno Del Lavoro Attenzione Perché Questo Sarà Un Momento Dove Ci Saranno Perché Venere Non è Soltanto L'amore Ma Anche Soldi Questa Venere Molto Romantica Quindi Mi Raccomando Usate Il Vostro Solito Romanticismo Per Conquistare Qualcuno Intorno A Voi Il Sole Entrerà Nel Signore Leone Il Giorno 22 E Quando Il Sole Anche Mercurio Il Giorno 19 Entra In Leone Quindi Mi Rendo Conto Che Farete Parte Proprio Di Di Un Voglio Anche Di Scoprire Nuove Realtà Così Come La Luna Nuova Il Giorno 28 Nel Segno Del Leone Punto 26 Ricordatevi La data Del 26 Perché Questa È una Data Molto Importante Attenzione Alle Passioni Del Passato Qualcuno Potrebbe Ritornare Ma Voi Avete Già Superato Questo Momento Quindi Non Guardate Indietro Andate Avanti Amici Dello Scorpione Allora Andiamo A Vedere Un Po Per Voi Allora La Prima Parte Del Mese Sarà Caratterizzata Dalla Voglia Anche Di Iniziare Una Vita Completamente Nuova Voi Questo Sarà Un Mese Soprattutto La Prima Parte Dove Avete Il Sole Anche Dalla Vostra Parte Avrete Mercurio Il Giorno 5 Che Entrerà Nel Vostro Nono Campo In Cancro Quindi Avrete Poi Il Giorno 18 Anche Venere Che Entra In Cancro Devo Dire Che L'amore Sarà Un Po Protagonista Queste Prime Giornate Innanzitutto La Voglia Di Scoprire Nuove Realtà Di Frequentare Persone Completamente Diverse Dalle Vostre Quindi Apritevi Anche A Conoscere Persone Che O Vivono Lontano O Sono Comunque Lontane Anche Dalla Vostra Cultura Del Ma Vi Piacerà Perché Capite Che Anche Voi Avete Bisogno Di Aprire Un Po Il Vostro Orizzonte Saranno Giornate Caratterizzate Dalla Voglia Di Espandere La Vostra Conoscenza Quindi In bocca Allupa Le persone Che Devono Studiare O Devono Fare Degli Esami Devono Frequentare Qualche Nuovo Corso Chi Deve Prendere Una Decisione Importante Una Piccola Nota Ho Scritto Qui Mi Raccomando Le Questioni Legali Perché Queste Saranno Giornate Dove Si Prenderanno Le Decisioni Molto Importanti A livello Proprio Giudiziario Chiusa Questa Parentesi Ritorniamo A questo Grande Evento Che Secondo Me Sarà Anche La Luna Piena Nel Segno Del Capricorno Il Giorno 13 Che Illuminerà Il Terzo Campo Ottime Le Comunicazioni Il Modo In cui Vi Rapportate Anche Con Le Persone Intorno A Voi Perché Questo Vi Permetterà Comunque Di Esprimere Veramente Ciò Che Siete La Seconda Parte Del Mese Riguarderà Tutta La Questione Lavorativa Quindi Mi Raccomando Per Le Questioni Lavorative Dal 19 Quando Mercurio Entrerà Nel Seno Del Leone Il Giorno 22 Il Sole Entra Nel Leone E Il Giorno 28 La Luna Nuova Sarà Nel Seno Del Leone Avrete A che fare Molto Con Il Lavoro 1 Sarete Impegnatissimi Avrete Tantissime Cose Da Fare Durante L'ultima Parte Di Luglio Se Avete Organizzato Una Vacanza Perfetto Sarà Ideale Se Vi Tocca Lavorare Saranno Giornate Piene Di Grandi Responsabilità Che Non Potete Lasciarle Agli Altri Dovete Prendervela Voi Sono Particolare Perché In Questo Preciso Momento Avete Anche Una Grande Responsabilità Qualcuno Per esempio Si è messo Un mutuo Addosso Deve Comprare Casa Deve Pagare L'affitto Insomma Ci sono Tantissime Responsabilità E di Conseguenza Queste Giornate Saranno Importanti Per Chi Per E Non Ha Lavoro Ecco Queste Sono Giornate Ottime Tutta La Parte Da Fine Mese Diciamo Che La Economica Lavorativa All'interno Della Vostra Vita Una Giornata Fondamentale Per L'amore Sarà Però Il 26 Di Luglio Quando Urano Si Congiunge Al Nodo Nord Che Si Trovano Proprio Nel Polo Opposto A Voi Il Vostro Campo Numero Sette Sarà Illuminato Allora Qui Avremo A che fare Purtroppo Con Una Un Ritorno Forse Di Qualcosa Del Vostro Passato Noi Sappiamo Che I Nodi Sono Aspetti Del Karma E Quindi Dobbiamo Cercare Di Superarli Nel Migliore Dei Modi Due Probabilmente Ci Troveremo A Vivere Una Nuova Dimensione Vi Vedo Proprio Ribelli In Amore E Quindi Sarete Anche A Chiedere Sempre Di Più Quello Che Volete Alla Persona Che Vi Sta Vicino Oppure Concludo Con Un Ultimo Tono Conoscerete Una Persona Che Farà Parte Della Vostra Vita Per Sempre Forse L'anima Gemella Se L'avete Già Conosciuta Proprio Durante Queste Giornate Il Vosso Rapporto Diventerà Qualcosa Di Speciale E Devo Dire Che Da Questo Momento In Poi Lo Scorpione Forse Sarà Più Pronto Ad Essere Se Stessi E Vivere Veramente Delle Grandi Emozioni Amici Del Sagittario Allora Per voi Il mese Parte Con Un Pianeta Marte Nel Segno Del Toro Il Giorno Cinque Avremo Questa Grande Occasione Finalmente Di Rivalutare Un Po Anche La Vita Credo Che Il Sagittario Inizierà A Prendere In Considerazione Anche Una Nuova Routine Forse Anche La Vostra Quotidianità Cambierà Nuovamente Per dare Una Nuova Dimensione A Quello Che È Il Vostro Ruolo All'interno Della Propria Vita Mercurio Sarà Nel Segno Del Cancro Proprio Il Giorno Cinque Questo Sarà Un Transito Molto Importante Perché Rappresenterà Forse Una Fine Di Una Realtà Che Non Vi Appartiene Più Per Iniziare Magari Un Da Che Fare Molto Soprattutto Nella Prima Parte Del Mese Con Le Questioni Economiche Credo Che La Luna Piena Nel Segno Del Capricorno Il Giorno 13 Rappresenterà Forse L'apice Di Qualcosa Di Molto Importante Fate Bene I Conti Forse Qualcuno Sta Spendendo Un Po Troppo O In Qualche Modo Non Si Trova Con I Conti Avete Bisogno In Qualcosa E Quindi Questo Vi Aiuterà Tantissimo Anche A Lasciare Andare Un Po Di Ansi Un Po Di Paure Che Avete Addosso Per Le Questioni Lavorative Questa Luna Piena Rappresenta La Chiusura Di Un Rapporto Lavorativo Ma Secondo Me L'inizio Di Qualcosa Di Molto Importante Di Cone Avete Proprio Bisogno Che Non So Viene A Pensare Tutte Quelle Persone Che Stanno Facendo Dei Lavori Che Non Sono Propri Vostri E Quindi Da Questo Momento In Poi Dico Ma Io Devo Iniziare A Fare Veramente Ciò Che Amo E Lo Devo Fare Con Molta Più Passione Il Giorno 18 Venere Entrerà Nel Signo Del Cancro E Questo Sarà Una Venere Molto Particolare Allora Attenzione Alle Passioni A Quegli Amori Che Nascono Così In Maniera Fuggitiva Forse Anche Quegli Amori Un Po Extraconugali Le Persone Che Hanno In Qualche Modo Qualcosa Da Nascondere No Questa È Una Venere Che In Qualche Modo Entra Un Po In Profondità Una Venere Che Comunque Chiede Di Sempre Chiudere Qualcosa Per Poter Iniziare Qualcosa Di Nuovo È Una Venere Molto Passionale Però È Nell'ottavo Campo Quindi Soprattutto Quando Si Trova In Cancro Quindi A pari Passo Bisogna Sempre Vivere Il Romanticismo Ma Nello Stesso Tempo Vivere Di Passioni Sembra Quasi Che La Passione È Quella Che Vi Stia Mancando Nell'ultimo Periodo E Grazie A Questa Venere Finalmente Si Apre Una Porta Molto Importante Poi Passiamo Proprio Ad Un Altro Nuova Nel Seno Del Leone Tutto Entrerà In Una Fase In Cui Dovete Assolutissimamente Iniziare Ad Aprire Il Vostro Orizzonte Sembra Quasi Che Avete Una Voglia Di Viaggiare Di Scoprire Di Entrare Magari In Mondi Completamente Diversi Il Nono Campo È Il Vostro Nono Campo Parla Di Coscienza Di Saggezza Di Intelligenza Quindi Sarà Il Momento In Di Frequentare Probabilmente Persone Che Vi Possano Dare Un Po' Più Di Spensieratezza Nella Vostra Vita O Anche Un Po' Più Di Saggezza Nella Vostra Vita Frequentate Persone Che In Qualche Modo Vi Possano Regalare Delle Emozioni Vi Possono Regalare Anche Delle Grandi Intuizioni Nella Propria Vita Allora Queste Saranno Giornate Dove Dovete Valutare Attentamente Le Questioni Legali Documenti Ma Nello Stesso Tempo Vi Do In Bocca Al Lupo Per Chi Deve Studiare O Deve Fare Dei Corsi Durante Questo Periodo Perché Secondo Me Ne Uscirete Veramente Vincenti Un Giorno Importante L'evidenzo Anche Voi Sarà Dal 26 Al 31 Sono Giornate In Probabilmente Avete Bisogno Di Riscoprire Anche Alcune Cose Di Voi Stessi Qualcuno Forse Si Rimette A dieta Perché Ha Preso Qualche Chilo Ha Bisogno Di Mangiare Bene Di Disintossicarsi Quindi Mi Raccomando Frequentate Magari Dei Luoghi Con Delle Persone Che Sono Molto Simili A Voi Che Hanno Bisogno Un Po Di Cura Di Se Stessi Amici Del Capricorno Allora Per Voi Questo Sarà Un Momento Importantissimo Che Riguarderà L'amore Quindi A luglio Mi Raccomando Lasciatevi Andare E Cercate Di Seguire Veramente Quelle Che Sono Le Correnti Del Cuore Perché L'amico Del Capricorno È Quasi Sempre Preso Dalle Questioni Pratiche Della Propria Vita È Sempre Preso Molto Dalle Risolvere Alcune Situazioni Della Propria Vita Sia Dall'inizio Del Mese Fino A fine Mese Dovete Lasciarvi Andare Il Mese Parte Con Una Casa Sette Illuminata Avremo Prima Mercurio E poi Venere Che Entrano Nel Vostro Campo Numero Sette Quindi Dal Cinque Al Diciotto Avremo Questa Meravigliosa Opportunità Di Conoscere Persone Nuove Di Lasciarsi Andare Di Frequentare Anche Le Persone Sarete Molto Attivi Sui Social O Comunque Aprite Quell'applicazione Che non aprite Da molto Tempo Perché Secondo Me Troverete Un Messaggio Inaspettato Di Una Persona Che In Questo Preciso Momento Potrebbe Intrigarvi Tantissimo Il Giorno Sette Scusate Il Giorno Tredici Avremo Una Bellissima Luna Piena Nel Segno Del Capricorno E Questo Rappresenta Per Tempo Per Voi Stessi E Quindi Questa Luna Vi Dirà Bene Adesso Inizia A Trovare Un Po' Una Tua Forma Di Spensieratezza Inizia Ad Avere Un Po' Una Opportunità Anche Di Rivalutare Te Stesso Il Tuo Corpo Chi Sei Come Ti Ami E Questo Ti Aiuterà Molto Durante Questo Mese Devo Dire Sincerità Fate Un Lavoro Su Scrivete Un Foglio Dove Dite Le cose Che Non Vi Piacciono Le cose Che Vi Piacciono Di Voi Iniziate A Lavorare Molto Sulla Vostra Autostima Soprattutto Con Questa Luna Piena Nel Segno Del Capricorno Il Giorno 18 Venere Entra Nel Vosso Settimo Campo In Cancro Quindi Viva L'amore Mi Raccomando Non Parlerò Di Lavoro Questa Volta Perché Non Ci Sarà Quasi Nessun Transito Che Toccherà La Vostra Casa E Mi Dispiace Ma Ne Parlo Sempre Per Voi Di Lavoro Quasi Poco Di Amore Quindi Beccatevi Un Mese Dove Parlerò Soltanto Di Amore E Voglia Di Uscire Anche Un Po Da Quel Confine Che Molto Spesso Per Voi Diventa Quasi Una Gabbia Che Un Po Una Corazza Per Proteggervi Soprattutto Nella Seconda Parte Del Mese Quando Tutta La Casa Numero Otto Sarà Influenzata La Casa Numero Otto È La Passione La Voglia In Qualche Modo Di Liberare Anche Quell'istinto Che Abbiamo Dentro Di Noi Conoscerete Forse Persone Che Vivrete Una Notte Via Ma Non Importa Perché Quello Che Avete Bisogno Anche Di Scoprire Nuovamente Voi Stessi Il Piacere Del Sesso Il Piacere Della Conoscenza Del Corteggiamento Quindi Riscoprire Il Proprio Piacere Riscoprire I Piaceri Secondo Me Sarà Molto Utile Durante Questo Periodo Inoltre Avremo Marte Nel Signo Del Toro Quindi Questo Pianeta Infuocato Che Anche Visto Come Il Pianeta della Passione Transiterà Nella Vostra Casa Numero Cinque Che È La Un cielo Pieno Per L'amore E Per Vivere Al Cento Per Cento Questo Mese Come Un mese Dove Lasciarsi Andare Quindi Prendetevi Una Vacanza Chiamate Quella Persona Che L'ho Chiamata Da Molto Tempo E Uscite Ci Andate A Bere Un Caffè Senza Pensare Troppo A Quello Che Sarà E Soprattutto Senza Pensare Tantissimo Al Lavoro Mi Raccomando Questo È Mese Con Delle Nuove Idee Con Delle Buone Opportunità E Delle Nuove Occasioni Per Ristrutturare Un po' La Nostra Quotidianità Forse Ultimamente L'acquario Aveva Perso Di Vista Quelle Che Potevano Essere Delle Occasioni Nuove Quelle Che Potevano Essere Anche Delle Nuove Rialtà Nella Propria Vita E Devo Dire Che Durante Questo Mese Di Luglio Soprattutto Nella Prima Parte Sentirete L'esigenza Di Ritrovare Un po' Una Routine Sana Che Vi Possa Portare Verso Qualcosa Di Nuovo Questo Sarà Un Momento Importantissimo Un Momento Dove Finalmente Potete Vivere Delle Grandi Occasioni Finalmente Capire Anche Dov' Quella Quella Realtà Che In Queste saranno giornate Dove capirete Perfettamente Per quale motivo Non state riuscite Ad avanzare In qualcosa Non è detto Perché comunque Magari ci sono Degli acquario Che finalmente Hanno trovato Una propria realtà Una propria Dimensione Sono convinto Che questo Sarà veramente Una grande Occasione Un bel Momento Per Ritrovare Finalmente Quella Spensieratezza Insomma Che voi Sempre avete avuto Quel grande Ottimismo Che voi Sempre avete avuto Ecco Quindi È un mese Dove ritrovare La strada perduta Magari avete Per un attimo Messo Una retromarcia O avete preferito Magari non farvi Vedere troppo Ecco Da queste giornate Inizia seriamente Un percorso Nuovo Soprattutto Giorno 13 Quando abbiamo La luna nuova La luna piena Nel segno del Capicorno Si chiuderà Questo ciclo Così pesante Che è durato Sei mesi E che in qualche modo Avete sentito Molto pesante Negli ultimi mesi E quindi Basta Liberatevene Chiudete con qualcosa Del vostro passato E iniziate ad introdurre Delle abitudini Magari più sane Nella vostra vita Per esempio Iniziare A frequentare Dei luoghi Spirituali O magari Dei luoghi Dove ci sono anche Altre persone Che condividono Il vostro stesso problema Una dieta Una disintossicazione Ecco Qualcosa del genere Potrebbe aiutare Proprio a ritrovare Anche un po' Quella connessione Con il vostro corpo Mi raccomando Il vostro corpo Proprio il corpo materiale Quindi esercizi fisici Alimentazione Saranno utili Durante le prime giornate Di luglio Per rendervi Delle persone Magari un po' Più vive Un po' Più nuove In questo momento La seconda parte Del mese Sarà caratterizzata Invece dall'amore Devo dire Che se fate Un buon lavoro Nelle prime giornate Del mese Troverete Questa grande opportunità Allora Pensate Avremo Mercurio Nel segno del leone Il sole Nel segno del leone Allora Mercurio Il diciannove Il sole Entra il ventidue Come ogni anno La luna nuova Nel segno del leone Il giorno 28 Tutti nel vostro Settimo campo E quindi questa Voglia Di ritrovare l'amore Di vivere l'amore Soprattutto Perché qualcuno Magari ce l'ha già L'amore Ma non lo vive E questa cosa È veramente brutta Perché Sentirete comunque Come l'altra persona Ne risente Di questa cosa Ritrovare l'amore Significa ritrovare Se stessi Mi raccomando Perché magari Diamo per scontato La persona Che c'è accanto O magari C'è qualcuno Che magari Si sente scontato Voi dell'acquario Vi sentite un po' Scontati Ecco È bello Parlarne Però dovete fare Un lavoro vostro Personale Ricordatevi che Saturno è nel vostro Segno ancora E quindi C'è un lavoro vostro Personale Molto importante Che vi aiuterà Che vi aiuterà A trovare A realizzare Anche ciò Che desiderate Una nota Importante Soprattutto per quanto Riguarda la casa L'eredità La famiglia Sarà il giorno 26 Quando Urano Congiungerà Il nodo Nord Ci saranno situazioni Della famiglia Che devono essere Risolte In maniera Definitiva Amici dei pesci Per voi Questo mese Sarà caratterizzato Da una sorta Da un'ondata Di spensieratezza Chiamiamola così Finalmente L'amico del pesci Troverà Questa grande Opportunità Quella di vivere In maniera Molto più spontanea Molto più libera Questo momento Iniziamo subito Con Mercurio Nel segno del cancro Nel vostro Quinto campo E' molto stuzzicante Questo Mercurio Perché vi aprirà Le occasioni Per conoscere qualcuno Per riattivare Magari delle comunicazioni Un po' così Romantiche Belle Quindi preparatevi Alle poesie I messaggi Così Un po' Del cuore Perché avete veramente Voglia di questo In questo momento Avete veramente Voglia di Comunicare Avete voglia Di dire realmente Quello che provate E vi dico di più Sto sentendo molti pesci Che mi dicono Anche se questa persona E' fredda Io voglio esprimere Me stesso E quando mi ha detto Questa persona Questa cosa Ho detto E' vero Devi essere così Tu devi esprimere Te stessa Tu devi essere Veramente Quello che hai dentro Lo devi dire Perché in qualche In qualche modo Forse se questa persona Non lo esprime Non vuol dire Che non lo riceve Il messaggio E quindi Devi essere un po' Perseverante In questo momento Soprattutto per liberarti Magari Da alcune cose Che hai dentro Di te stessa E di essere In qualche modo Più spontanea E più libera Marte Entrerà in segno del toro Il giorno 5 Anche quindi Questa giornata Sarà molto importante E proprio nel vostro Terzo campo Si discuterà In maniera Anche abbastanza Accesa Su qualcosa Di importante Riguardante Forse anche Il lavoro Ma Con una prospettiva Di vita Positiva Perché Marte È un pianeta positivo È un pianeta Che vi mette Una realtà Davanti agli occhi Così come il toro Che vi dice Bene Allora Cosa devo fare Da dove devo partire Ecco magari Fatevi uno schemino Iniziate a scrivere Una lista Di cose Soprattutto sul lavoro Le questioni lavorative Che dovete iniziare A imporre Il giorno Scusatemi 13 Avremo una Luna piena Nel segno del capricorno E forse è qua Proprio che si apre Un orizzonte nuovo Per voi Perché Ci possono Nascere Delle nuove Collaborazioni Qualcune Collaborazioni Del passato Devono essere Chiuse Magari Quelli che vi stavano Fregando Sulle questioni Lavorative Eccetera Che non vi sentivate A modo Altre invece Se ne aprono In questo momento E quindi Finalmente Iniziate seriamente Ad andare avanti A guardare Realmente Questa nuova realtà Venere Eccolo qui Che entra in campo In campo Nuovamente Nel vostro Campo numero 5 Scusate il giro di parole Il giorno 18 Allora Il cancro Per voi rappresenta La casa numero 5 Un trigono d'acqua Perché voi siete Un segno d'acqua Come il cancro E la casa numero 5 È la casa Della creatività Della libertà Della positività Ma soprattutto Delle conoscenze Dei flirt Quindi Devo dire Che questa sarà Una venere Romantica Perché nel seno del cancro Nella casa Dei flirt E chissà Forse qualcuno Vivrà veramente Delle nuove emozioni Se già avete qualcuno Come vi ho già detto È arrivato il momento Di esprimere realmente Quella che siete E quella che sentite La seconda parte Del mese Invece Tutto nel seno del leone Abbiamo Mercurio Il giorno 19 Nel seno del leone Il sole Il giorno 22 Entra nel seno del leone E la luna nuova Nel segno del leone Sarà il giorno 28 Quindi potete immaginare Che saranno Tre transiti Durante la seconda parte Del mese Che illumineranno Il vostro campo Numero 6 Che è il campo Della organizzazione Della necessità Di mettere a fuoco Le proprie idee Basta confusione I pesci Intanto entra in confusione E io dico sempre Fermati Ascoltami Fai una lista Organizza Inizia un'attività quotidiana Magari inizia a fare Una palestra O una dieta Qualcosa che ti possa aiutare Anche A depurare Un po' Quello che hai dentro Perché forse Quello di cui tu Semplicemente hai bisogno In questo momento È di liberare Un po' di tossine Dal tuo corpo Per avere Magari una mente Un po' più lucida La casa numero 6 Sono i collaboratori Di lavoro E quindi ancora una volta Nuove occasioni lavorative Che possono nascere Ed è anche la salute Quindi mi raccomando Tenete d'occhio La vostra salute Soprattutto Quello che riguarda Le gambe I piedi Queste zone qui Il giorno numero Il giorno 26 Avremo nella vostra casa Numero 3 Una congiunzione di urano Con il nodo nord Questo sarà una congiunzione Molto importante Perché ci sono comunicazioni Che avete lasciato in sospeso Che devono essere chiuse Definitivamente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti